Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento. Marco, mi sembra che le cose cominciano ad andare un pochettino meglio, ho sentito quel fattore aereo con zero che si è abbassato a 0,45, è possibile? Allora, tanto buona serata a tutti. La situazione, sì, si sta evolvendo verso una, sono giorni che si sta evolvendo verso una situazione positiva, diciamo, di questi dati. Ricordiamoci che però il dato che tu hai citato è un dato intanto medio ed è un dato frutto di due settimane di movimentazione di dati, di situazione di pandemia che può, mi auguro, possa ancora scendere. Naturalmente teniamo presente che quell'ereo con zero che abbiamo imparato, credo a conoscere abbastanza bene, visto che sono giorni che lo, ormai settimane e mesi che lo citiamo, che è quel rapporto, quel numero che indica il rapporto fra una singola persona contagiata e quante persone vengono contagiate da questa persona, possono essere, venire a contatto del virus da questa persona. Questa è la definizione di R con zero. Ora, se noi andiamo a vedere il dato nazionale è più o meno quello, ma poi ci andremo. Se vediamo il dato del nord Italia, purtroppo non è proprio così, è un pochettino messo peggio, ma non, diciamo, non... Andiamo con ordine. Andiamo con ordine perché oggi comunque abbiamo notizie sempre positive per quanto riguarda i numeri diffusi della protezione civile nazionale, con 2747 persone guarite nell'arco delle 24 ore, sfioriamo i 100.000, siamo a 99.023, come si vede anche dal grafico, dalla tabella, 99.023 come guariti. Abbiamo purtroppo superato i 30.000 come decessi e siamo arrivati a 87.961 come attuali positivi, come persone che ad oggi in tutta Italia hanno il coronavirus in corpo, cioè stanno vivendo la malattia, naturalmente come dati ufficiali. Molto probabilmente ce ne saranno molti di più, così come in tutto il mondo, ecco, cioè noi parliamo di dati forniti dal sistema sanitario nazionale e dal Ministero della Salute perché sono stati effettuati i tamponi. Ora andiamo a vedere il grafico, l'andamento nazionale ci fa vedere che la curva degli attuali positivi, come detto, è costantemente in discesa, con più o meno pendenza, cioè più o meno velocemente, oggi di nuovo un po' in rallentamento, però vabbè, dai, prendiamola come viene. Infatti guardando la variazione dei totali positivi siamo sempre in campo negativo, cioè sotto lo zero, la cosa va bene, però sta leggermente avvicinandosi di nuovo al valore zero, però vabbè. Parliamo subito, prima di passare ai dati nazionali e a parlare di R con zero e di tante altre cose, parliamo di dati regionali, con il grafico 00, Marco, vediamo il riassunto dei dati forniti da Alisa, dalla regione Liguria, ci fa vedere subito che siamo scesi di 37 persone, ad oggi non più positive, scusate, il totale positivo è sceso di 37, siamo sempre sopra 5.000 ma stiamo piano piano scendendo, dei guariti quindi non più positivi, ad oggi siamo più 104, un numero importante, 104 persone oggi ufficialmente col secondo tampone negativo, 35 persone in più invece sono coloro i quali sono guarite clinicamente, cioè positive al primo tampone, negativi al secondo e in attesa del terzo tampone che dovrà essere speriamo negativo. Per quanto riguarda i pazienti ospedalizzati, 19 persone in meno, ottima notizia, e 11 persone in meno, altro numero importante, come persone in terapia intensiva, questo è un dato interessante, interessante anche il dato delle persone che sono positive ma a casa, sono 53 persone in meno, siamo a 2.613 in totale, i tamponi fatti oggi sono stati tanti, 2.085 con un totale dall'inizio della pandemia di 63.500 e oltre, 11 persone, tanti quanti ieri, i deceduti, che quindi è un numero che ormai si sta basando su quelle, sempre sulle due unità, sulle decine, vorremmo scendere ancora naturalmente, il nostro auspicio è questo. Per quanto riguarda la nostra ASL, la nostra ASL segna 40 persone ad oggi ricoverate nell'ospedale di Sessi Levante, ricordiamo che ieri era 39 quindi salita di una persona, purtroppo è rimasto stabile il numero delle persone in terapia intensiva, sono 5, le persone positive, naturalmente ospedalizzate e nel reparto Covid di terapia intensiva. Questo è un po' il quadro per quanto riguarda la nostra regione, regione Liguria, che poi guardando il grafico 00 Marco, che ha tre colori, ci fa vedere giorno per giorno il famoso andamento di tutta la situazione Ligure. I casi totali sono quelli con la linea nera in cima, poi abbiamo gli attualmente positivi, che è l'aria marroncina, che come vedete giorno per giorno sulla destra sta scendendo come valore, i deceduti lentamente crescono, ma molto lentamente, purtroppo è un valore che non può decrescere, speriamo che si fermi, ecco questo rosso, e poi in verde abbiamo i guariti, quelli sì che stanno crescendo e siamo contenti che cresca con lo spazio verde, perché più verde cresce, più automaticamente la situazione è sempre più rosina per la nostra regione, ma così dovrebbe essere per tutta Italia, anzi lo è più per tutta Italia che per la nostra regione, questo è importante buttarla lì. Parliamo di dati nazionali Marco, con la tabella 01, partiamo sempre da quella che è quella dei tamponi positivi scoperti oggi, rinvenuti oggi, 1327, dai lavoratori di analisi di tutta Italia, sono venuti fuori 1327 tamponi positivi, su quanti? Andiamo subito a vederlo, quanti i tamponi sono stati fatti oggi? Tabella 03, ce lo dice subito, giorno per giorno vediamo come sta andando l'analisi dei tamponi, oggi 63.775 nuovi tamponi fatti oggi, non siamo a un valore alto come quello di ieri, ma poco ci manca, comunque tanti tamponi, anche se le promesse fatte e gli impegni presi per la fase 2, cioè di fare molti più tamponi rispetto alla fase 1, per ora non sta ancora vedendo una concretizzazione, perché vedete che spostandosi sulla sinistra, bene o male, vediamo l'andamento del numero di tamponi, che guarda caso poi ogni 7 giorni si abbassa bruscamente, forse perché la domenica o i giorni di festa si fanno meno tamponi, ci sono meno laboratori aperti, però questa è la situazione. Se noi prendiamo tra le altre cose il grafico 09, Marco 09, vediamo il confronto fra giorno per giorno i tamponi e il confronto fra i nuovi positivi, i tamponi sono quelli in linea marrone, in linea marrone con i puntini e in color nocciola sono gli andamenti dei nuovi positivi. Se vedete nelle giornate di oggi, nelle giornate di ieri, diciamo quelle più a destra della grafica, vedete numeri bassi di nuovi positivi fortunatamente, pur vedendo sempre un valore, immaginate una linea, più che una spezzata così variegata, della linea dei nuovi tamponi che sono sempre di più rispetto a 15 giorni fa, rispetto a un mese fa, eccetera eccetera. Quindi l'andamento dei tamponi ci fa ben sperare per il futuro, cioè se cresceranno sempre così, e noi ce lo auguriamo per questa fase 2, avremo uno screening molto più approfondito rispetto al recente passato. Questo un po' per quanto riguarda i tamponi. Per quanto riguarda la tabella 02, Marco, vediamo il dato degli attualmente positivi come varia. A oggi abbiamo detto che siamo nuovamente un po' saliti, però siamo sempre in ambito verde, cioè negativo, quindi in sottrazione. 1663 attualmente positivi in meno nella giornata di oggi. Buona notizia, buona così. Come buona è sempre la notizia dell'andamento dei ricoverati negli ospedali italiani con il grafico 04, lo vediamo subito, vediamo, siamo scesi a 14.636 pazienti ricoverati ad oggi per il coronavirus. E altra buona notizia arriva con la tabella 05 dagli attualmente ricoverati nei reparti Covid di terapia intensiva. Ancora oggi siamo in discesa, lenta ma costante, 1.168 persone ospedalizzate nel reparto di terapia intensiva di tutti gli ospedali italiani, che poi guardando la grafica giorno per giorno in verde vediamo quante sono scesi oggi. Oggi sono scesi di 143 persone, 143 letti che in Italia si sono liberati nel reparto di terapia intensiva. Tabella 06, Marco, la tabella 06 ci fa vedere gli steli tutti neri, cioè quelli un po' più tristi. 243 in tutta Italia sono oggi registrati i decessi per coronavirus o con il coronavirus. Abbiamo superato la soglia fisiologica delle 30.000 persone morte di coronavirus che non è poco perché siamo il secondo paese nel mondo come numero di decessi. Quindi è un valore molto molto forte. Auguriamoci perlomeno che si fermi prima possibile. Tabella 07, Marco. La tabella 07 ci porta invece a guardare i guariti giornalieri. 2747, sempre numeri importanti, non forti come quelli di ieri, però togliendo la data del 6 maggio che è stato un refuso dei dati della regione Lombardia che li ha catalogati tutti assieme, insieme al totale italiano per poi dare una sommatoria molto forte. Oggi 2.747 persone non più positive al tampone. Con il grafico 0,8 andiamo a parlare invece di tamponi fatti e quanti di questi tamponi fatti sono usciti positivi. Questo lo stiamo vedendo ormai già da un mese, lo stiamo analizzando giorno per giorno ed è come vedete sempre in decrescita, anzi oggi siamo un po' stabili, anzi siamo perfettamente uguali allineati al valore di ieri, cioè 2%. Il 2% cosa vuol dire? Che su 100 tamponi fatti 2 sono usciti positivi in tutta Italia, quindi è sempre un valore basso ed è giusto però menzionarlo. Ora, a proposito di percentuali di tamponi, Marco, facciamo un raffronto non con la Liguria ma con le due regioni della zona A, cioè del nord Italia, con la tabella 11, con il grafico scusate con la scheda 11, vediamo la percentuale di positivi su tamponi fatti di due regioni diciamo confinanti, senza diciamo, sono confinanti, Lombardia e Veneto. Lombardia e Veneto e guardate che gap, che distanza, che forchetta c'è fra la Lombardia e il Veneto. La Lombardia ben nel 5,7% sono risultati positivi, invece il Veneto solo lo 0,6% e pensate che in Veneto oggi sono stati fatti più tamponi che in Lombardia. Questo ci fa, e poi abbiamo messo anche il valore Italia per, escludendo la Lombardia, diciamo, per dare un peso per come si sta comportando il resto delle altre regioni italiane. Il Veneto 0,6% con più tamponi fatti rispetto alla Lombardia che ne ha registrati 5,7% di positivi. Quindi la Lombardia è ancora molto stressata, anche se molto meno rispetto alla scorsa settimana, per quanto riguarda i nuovi casi, i nuovi contagi. Si stanno continuando a presentare questi nuovi contagi. Nonostante poi qualcuno vada a fare anche gli incontri di amicizia e gli aperitivi già lungo i navigli, che vabbè, questa è un'altra storia, anche se è pura cronaca ed è che ci fa pensare, ci fa pensare quanto velocemente ci si dimentichi della gravità di questo tipo di pandemia. perché, ripeto, finché è doverosa la necessità di una persona, di una società, di una città di dover tornare a lavorare per sussistenza, per vivere, è giusto e bisogna far sì che la gente che torni a lavorare lo faccia in sicurezza. Ma un altro conto ben diverso è coloro i quali si riprendono determinate abitudini ludiche, definiamole così, di voler andare su una viglia, prendersi una birra con gli amici, magari anche senza mascherina, senza distanziamento sociale, come se non avessimo passato nulla in questi due mesi, come se non stessimo ancora contando decessi oppure persone in terapia intensiva. Questo è un aspetto che ci deve far ragionare, ho già fatto saltare sulla sedia ad esempio il sindaco Sala di Milano e non solo, anche il presidente della regione Lombardia, però deve far ragionare un po' tutti, perché è un caso, diciamo, mediaticamente forte come quello che è successo a Milano ieri pomeriggio, ieri sera, non è detto che non succeda in piccolo anche delle nostre parti. Speriamo di no, speriamo che noi Liguri, piuttosto che tutti coloro i quali in generale, in tutta Italia, siano sensibili a questo tipo di comportamenti che all'apparenza possono essere innocui, però in realtà possono dare vita a nuovi focolai di pandemia e non ce lo possiamo assolutamente permettere, perché, lo abbiamo detto mille volte, è giusto riaprire, però se per caso ci fosse un innalzamento della curva pandemica, automaticamente ci sarebbe una nuova chiusura e una seconda chiusura, forse anche a livello economico e non solo economico, non ce lo possiamo permettere. Parliamo un po', tu hai parlato Marco giustamente del valore R con zero e ci buttiamo a capofitto sull'analisi di questo R con zero, tra l'altro riaggiornato, ristudiato dall'ISS, cioè dell'Istituto Superiore di Sanità proprio nella giornata di oggi. Partiamo con la tabella 13, la tabella 13 ci fa vedere una stima dell'indice appunto di contagio R con zero regione per regione. Ora incominciamo a vedere colori diversi rispetto all'ultima volta che l'abbiamo visti. Allora, più è blu, più è intenso lo scuro, il colore, più siamo vicini all'uno, più è chiaro il colore, più diciamo siamo vicini allo 0,2, 0,4 eccetera. È cambiata molto la situazione, perché? Perché se fino a poche settimane fa l'R con zero, per esempio delle regioni del sud era basso, adesso sembra quasi rivaltata la situazione. Vediamo un nord Italia mediamente sullo 0,5, 0,4 all'Ilguria e sullo 0,7 insieme alla Toscana e al Lazio, ma vedete regioni come l'Umbria, la Sicilia ad esempio e la Puglia sono vicini allo 0,9 o addirittura sfigurano l'1. Quindi situazione perché questo? Secondo, e lo possiamo vedere anche con la tabella 14 Marco, si può vedere, la cosa strana è, soprattutto per regioni centrali e meridionali come la Basilicata, la Calabria, l'Umbria, e il Molise, che abbiamo riportato qua, c'è una grossa incertezza nello stimare questo valore, vedete? Stiamo parlando di R con zero che ad esempio per la Basilicata è stimato, farò pensate, lo 0,39 e l'1,38, oppure la Calabria 0,48 oppure 1,22, questo addirittura al Molise, 0,09 oppure 0,74, la Molise ha messo bene di suo, però guardate che gap, e questo gap è dovuto in particolar modo da due fattori, uno dalla difficoltà intrinseca di calcolare questo R con zero, che ripetiamo, è quel rapporto fra una persona infetta e quante persone questa persona infetta può contagiare con la sua malattia di coronavirus. Questa è la definizione di R con zero detta un po' in maniera semplicistica, però se noi valutiamo questi gap che sono soprattutto presenti nel meridione, arrivano anche da un afflusso di dati che servono per calcolare questo R con zero molto strani, chiamiamoli così, cioè non molto affidabili, e quando si hanno dati poco affidabili giustamente ci sono anche delle discrepanze enormi, qualunque cosa si vada a calcolare, se abbiamo delle fonti di dati non coerenti, non affidabili, non con delle stime sbagliate, automaticamente il risultato non può essere affidabile. E qui abbiamo il motivo principale. Speriamo, visto che questo R con zero, come molti hanno detto, anche se non tutti, diciamo le tavole di esperti, serve per valutare se chiudere o meno nuovamente l'Italia o qualche regione, perché magari cresce troppo eccetera eccetera, è giusto prima capire se questo R con zero è affidabile come numero, cioè perché stiamo parlando di scelte importanti per la vita di regioni o per non parlare di tutta l'Italia, quindi se questo R con zero venisse calcolato bene è un conto, oppure da un dato che fotocopia diciamo lo stato attuale della nostra Italia è un conto, ma se invece è frutto di dati sbagliati, magari non corretti, raccolti male o forniti male, allora rischiamo di dare dei risultati veramente pericolosi. Comunque riassumendo con la tabella 012, con la stringa 012, vediamo che comunque l'Italia ad oggi, fonte dell'Istituto Superiore di Salentà, ha un valore di R con zero fra 05 e 07. Questa è un po' la fotografia di oggi. Ricordiamoci che se si avvicinasse a 091 suona l'allarme a livello Roma, quindi automaticamente potrebbe scattare qualche nuovo lockdown, speriamo che non succeda. Naturalmente questo dipende da tutti noi, lo diciamo sempre, perché le abitudini di uno stile di vita che non sarà almeno per dei mesi uguali a quello che era prima, lo dobbiamo mettere in pratica, cioè dobbiamo rendercene conto e far sì che queste abitudini siano entrate nella nostra abitudine quotidiana, che sono sempre le stesse, le ripetiamo alla nausea, ovvero sia l'igiene personale, lavarsi le mani ogni qualvolta si esce o anche si usano e si devono usare anche i guanti, quelli monouso, usa e getta. E poi l'utilizzo della mascherina chirurgica, possibilmente non usata da dieci giorni, anzi, va cambiata dopo un po', e si deve usare non quando si guida da soli, non quando si va in motorino da soli, non quando si va a correre da soli, non quando si è da soli in generale all'aria aperta, ma in situazioni in cui si incontrano potenzialmente delle persone e non si riesce a mantenere la distanza di almeno due metri, un metro e mezzo fra le persone. Allora in quei casi lì la mascherina ci vuole insieme ai guanti per toccare le cose che magari al supermercato o dovunque ci troviamo. Queste sono semplici, basilari e ripetute all'infinito nozioni che devono essere sempre messe in pratica. Aggiungiamo anche, non uscire di di casa, comunque non riprendere abitudini ludiche o futili in questo momento che anche se farebbero tanto piacere, perché? Perché siamo rimasti in casa un mese e mezzo o due, perché comunque sia siamo stressati da una situazione comunque oggettivamente stressante che ci farebbe piacere incontrare amici, bersi una birra insieme agli amici, un aperitivo, scherzare, ridere e ballare. Non si può ancora, speriamo per poco, ma ad oggi non si può ancora. Marco, hai domande? No, guardavo, cioè ti ascoltavo, tra l'altro abbiamo mandato un filmato di Paola Servente, che tu conoscerai bene, che praticamente ha raccontato la sua esperienza dove ha impiegato 50 giorni a uscire, a diventare di nuovo negativa ed era praticamente asintomatica, quindi bisogna stare molto attenti perché il problema c'è ancora. La speranza è che questo virus, mi è scappato uno slag, che diventi meno virulento e che quindi questo era con zero, cali e quindi vuol dire che piano piano, e speriamo che poi in autunno non ricompare di nuovo. Quello è l'auspicio principale, o perlomeno, che anche se possa ricomparire non ci costringa a chiudere di nuovo tutto, ecco, quello è basilare. Perché? Perché abbiamo imparato la lezione, diciamo così, perché anche se diventa di nuovo più virulento, come l'hai definito tu giustamente Marco, noi abbiamo messo in pratica dei comportamenti che magari due mesi fa non lo mettevamo in pratica, un mese e mezzo fa non lo mettevamo in pratica. Infatti è quello che ha dichiarato Paola, che lei giustamente sarebbe stata contagiata verso il 10 di marzo quando la cosa non si sapeva, quindi vedere adesso persone senza mascherine che parlano attaccati è veramente un decoccio, cioè nel senso… Sì, sì, soprattutto perché, ora faccio una battuta naturalmente, in maniera cinica e un po' egoistica, posso ragionare del fatto di dire, vabbè, vuoi prenderti la malattia, vuoi star male tu, arrangiati. Il problema è che un arrangiati sul campo del coronavirus è inutile. Perché? Perché il coronavirus, l'abbiamo imparato, che anche se una persona si contagia, ma non dà sintomi, poi magari involontariamente la incontriamo per motivi di lavoro o per altri motivi e ci infetta a noi, l'arrangiati non è un buon ragionamento, anzi, dobbiamo vincere l'attare tutti insieme, è l'unico modo per uscirne il più presto possibile. Ora, volevo dare due o tre informazioni anche a livello regionale. Dall'11 di maggio ritorneranno disponibili le mascherine chirurgiche messe a disposizione gratuitamente da Regione di Liguria, nelle farmacie, come è successo dal mercoledì scorso e ancora oggi, naturalmente, se fossero ancora a disposizione, potete andare con la vostra tesserina sanitaria presso una farmacia e lì vi daranno una bustina con due mascherine chirurgiche e certificate. Sono state regolamentate, notizia, o stanno per essere regolamentate e autorizzate l'uso delle mascherine, quelle anche fatte in casa, purché con determinate caratteristiche del tessuto utilizzato per fare queste mascherine, io metto sempre una mano avanti, sì che sono più belle perché magari sono personalizzate queste mascherine fatte in casa, o comunque fatte anche col tessuto e non da un laboratorio che ha fatto delle certificazioni. Fate sempre una prova però per capire se la mascherina vi sta servendo nel momento in cui ce l'avete addosso oppure no. Prendete un accendino, indossate la mascherina con l'accendino della fiamma accesa, a una distanza di 10-15 cm non di più, soffiate forte in direzione della fiamma dell'accendino. Se la fiamma si spegne potete avere la più bella mascherina del mondo ma sarà del tutto inutile. Invece la mascherina se non fa spegnere la fiamma sarà utile diciamo non quanto ma abbastanza per poterla usare come presidio. Poi la regione, notizia di ieri anticipata e ufficializzata oggi dall'assessore Berrino della regione Liguria, ha ufficializzato l'anticipo della cassa integrazione alle attività imprenditoriali della regione Liguria. Visto il ritardo dello Stato centrale sembrerebbe che la regione Liguria anticiperà una quota. Poi il lunedì entrerà in vigore una nuova ordinanza regionale e domenica ne parleremo bene insieme perché verrà anticipato in conferenza stampa dalla Presidenza, dal Presidente Totti. Cosa conterrà questa ordinanza? Secondo le indiscrezioni conterrà dei dettagli su delle nuove aperture e o comunque delle maggiori libertà individuali perché comunque il distanziamento individuale deve rimanere per quanto riguarda il nostro quotidiano sia a livello lavorativo professionale che a livello di qualità di vita. Questo da lunedì prossimo. Sempre da lunedì notizia importante ci saranno una serie di riunioni convocate da Lanci con i sindaci della Liguria con basi tematiche per gestire al meglio quindi in maniera magari sincrona e uniforme comune per comune le apertura ad esempio di attività commerciali e la loro necessità magari di utilizzo del suolo pubblico piuttosto delle attività balneari, degli stabilimenti eccetera eccetera. Tutte quelle operazioni che sono a capo dei comuni, dei sindaci e quindi riuscire chi più chi meno ad avere una omogeneità nelle decisioni e nelle relative ordinanze sindacali. Quindi da lunedì ci saranno questi incontri e speriamo che escano notizie confortanti per il futuro sia professionale ma anche di svago turistico perché poi magari ad esempio l'utilizzo della spiaggia e delle strutture che sulla spiaggia insistono interessano un po' tutti poi alla fine.